Basta morti sul lavoro. E questo lo striscione esposto da CGL Will a Pesaro, in un piazzale con le Nuccio, a sostegno dello sciopero nazionale indetto dai due sindacati, per chiedere più tutele, più controlli e più sicurezza. In piazza per chiedere degli interventi immediati per fermare questa strage a cui assistiamo ogni giorno e ogni anno in Italia, di lavoratrici e lavoratori che si alzano per andare a lavorare e non tornano a casa. Degli strumenti per mettere mano a questa situazione ci sono, noi chiediamo che vengano adottati, servono rinforzi per gli ispettori del lavoro, per i servizi di prevenzione, serve intervenire e modificare la regolamentazione degli appalti perché quello che sta succedendo è che quando vengono dati degli appalti non c'è la possibilità di controllare chi lavora, che contratti applica, che garanzie offre. Il lavoro è sempre più povero, sempre più precario e le persone non è più accettabile nel 2024 che ci siano così tanti morti che sono equivalenti a quelli che c'erano cent'anni fa. Chi può la mattina andare a lavorare e non tornare a casa? Questo è dovuto perché non ci sono, non sono stati messe in campo una serie di azioni volte proprio a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Zero morti sul lavoro è proprio la campagna che a livello nazionale la Will sta portando avanti da molto tempo. Per farlo sono state messe insieme una serie di piattaforme che come sindacati abbiamo realizzato perché il governo metta assolutamente in piedi alcuni interventi, interventi che sono stati disattesi fino a questo momento e soprattutto sulla possibilità di aumentare quelle che sono le risorse che consentirebbero maggiori controlli sui cantieri. Il problema è questo ed è fondamentale che se non si capisce che la cosa più importante in un'azienda è la sicurezza sul lavoro, noi questa cosa qui non la finiremo mai. L'anno scorso, l'anno prossimo, tra due anni, tra tre anni, troveremo sempre a contarci i morti. Cosa significa? Trent'anni fa c'erano 7.000 morti all'anno, ecco per fare un esempio. Adesso ce ne sono 1.300, tanto è stato fatto ma non basta, purtroppo non basta. Ogni morto sul lavoro, ogni incidente, ogni infortunio ha una responsabilità e spesso è dovuta al fatto che si vogliono risparmiare dei soldi e gli investimenti per la sicurezza, per l'azienda sono soldi sprecati. Al fianco dei sindacati anche i lavoratori di alcune ditte del territorio, stanchi di apprendere di queste tragedie che negli ultimi 15 giorni di febbraio registrano più di 40 morti. Sono qui per dimostrare il mio dissenso e la mia indignazione da parte mia e di tutti i miei colleghi rispetto a queste morti che si verificano ogni giorno in Italia. Siamo sulla media di tre morti al giorno e non è possibile che in Italia nel 2024 si verifichi ancora questo. Bisogna pensare solo a una cosa, che al di là delle morti, questo è un problema grosso anche per l'economia. Pensare che un'azienda adesso bisogna che si fermi, ci siano delle indagini, problemi legati alle famiglie, alla scuola, a tutto quello che raccoglie dietro un avvenimento e una tragedia del genere. In generale come delegato, come operaio sento sempre di più parlare di persone che anche rischiano di farsi male e le aziende tendono ad ignorare questo genere di problematica. Il concetto di salute e sicurezza è sempre meno presente nel dibattito circa il lavoro e questo è increscioso contando che siamo una Repubblica fondata sul lavoro. La mia richiesta è la seguente, chiedo semplicemente che si riparta da questo, una Repubblica fondata sul lavoro, il lavoro è egemone.